A un anno dall'alluvione che sconvolse il territorio di Monteforte e il Pino, l'amministrazione fa il punto della situazione sugli interventi programmati, finanziati e realizzati. Il comune di Monteforte, sotto la guida dell'ufficio tecnico, ha promosso sei interventi di riqualificazione che coinvolgeranno le aree più a rischio. Gli interventi da realizzare nel giro di un paio di anni riguarderanno la realizzazione di vasche di laminazione di contenimento di fango e detriti, l'interramento di canali, ad esempio nelle zone dei valloni, l'allargamento della sezione aurea dell'alveo del Fenestrelle nell'area di Ponte Macchia e su tutti emerge il forte intervento che si realizzerà su via San Giovanni, che coinvolge anche il comune di Mercogliano e che avrà lo scopo di salvaguardare tutto l'abitato spostando il rischio frane e smottamenti in un'area non abitata. È un anno che è stato difficile, davvero, quei ricordi indimenticabili. Però noi già dalle prime ore ci siamo messi subito in movimento per farsi per garantire a tutta la popolazione la viabilità e tutto. Adesso dopo un anno io da sindaco, con la mia amministrazione, con i tecnici, posso dire che c'è un pizzico di orgoglio perché siamo soddisfatti di tutti i risultati che abbiamo ottenuto e stiamo ottenendo e ancora c'è da fare tanto, quindi il lavoro non è che finisce qua. Abbiamo bisogno di aiuto oggi anche dalla Regione Campane e da Roma. San Monteforte è stato fatto tanto. Sono stati ripristinati tutti i servizi essenziali grazie all'impegno della Protezione Civile Nazionale che ha concesso lo stato di emergenza su questo territorio. Insieme al Comune abbiamo fatto una ricognizione di quelle che erano le ulteriori esigenze del territorio e di recente la Protezione Civile Nazionale ci ha concesso altri 8 milioni e 100 mila, oltre il milione e 100 che erano già stati autorizzati. Insieme al Comune, dopo aver fatto tutta una serie di sopralluoghi, abbiamo individuato una serie di priorità per l'eliminazione del rischio residuo e in più appostiamo le risorse per andare incontro al contributo da dare all'attività economica e produttiva e ai privati che hanno avuto dei danni durante quell'alluvione.